Avvertiamo nell'anima due inquietudini, quella buona, che è l'inquietudine che ci dà lo Spirito Santo e che si traduce nello stimolo di fare cose buone, e quella cattiva, che nasce dalla coscienza sporca di aver fatto cose brutte. Così Papa Francesco, nell'Omelia della Messa del Mattino a casa Santa Marta, riferendosi alle inquietudini e alle malvagità di Erode descritte dall'Evangelista Luca. Il male che fa questa gente ha sempre la stessa radice, ha spiegato il Pontefice, la cupidigia, l'orgoglio e soprattutto la vanità, un male che fa vivere chi lo asseconda nell'affanno di apparire, di fingere e di truccare la propria vita. Quanta gente noi conosciamo che sembrano che buona persona va a Messa tutte le domeniche, fa grosse offerte alla Chiesa, questo è quello che si vede, ma la osteoporosi e la corruzione che hanno dentro. C'è gente così, ma c'è gente santa pure che fa questo. Ma la vanità è questo, ti fa parire con faccia di maginetta e poi la tua verità è un'altra. che il Signore ci liberi di queste tre radici di tutti i mali, la cupidigia, la vanità e l'orgoglio, ma soprattutto della vanità, che ci fa tanto male.